Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi parliamo di dieta e dei segnali che ti fanno capire che quello che stai facendo con la tua dieta sta funzionando. Allora è importantissimo soprattutto per tutte le persone che sono a dieta capire quando una dieta sta funzionando o meno. Perché è importante questo? Perché ci permette di essere più motivati. Se la nostra dieta sta funzionando ovviamente voi sarete più motivati e sarete più felici di continuare nel percorso intrapreso. Per chi non mi conoscesse ancora io sono il coach Umberto Miletto e in questi anni ho aiutato dire milioni di persone grazie ai miei video YouTube ad allenarsi, a mangiare bene e a centrare grandi risultati. Quindi ascolta attentamente quello che ti dirò perché troverai in questo video tutte le informazioni che ti permetteranno di capire che se quello che stai facendo è giusto oppure no. Dieta. Parola dieta fa sempre paura perché quando ci mettiamo a dieta ovviamente sappiamo che dovremo intraprendere un percorso in cui soprattutto all'inizio dobbiamo restringere le calorie quindi dobbiamo cambiare abitudine e questo può essere non facile per tante persone. Però se la dieta funziona lo notiamo subito perché una buona dieta funziona quando? Quando incominciamo a vedere ovviamente il peso andar giù ma ancor più vedere il peso andar giù le circonferenze nei punti giusti andar giù. Allora noi capiamo che l'alimentazione sta funzionando. Per capire se un'alimentazione funziona, una dieta sta funzionando in realtà bisognerebbe guardarla dopo diversi mesi che l'abbiamo incominciata perché subito all'inizio il nostro corpo è in una situazione che si sta adattando molto probabilmente anche a livello di testa ci sono delle situazioni che alcuni soggetti fanno fatica perché l'impegno della dieta è molto importante altre persone invece che vedendo subito il peso andar giù sono gasate sono contente e quindi mettono in pratica la dieta facilmente. Però noi riusciamo a capire se la dieta sta funzionando realmente come vi dicevo dopo diversi mesi. Dopo diversi mesi cosa deve essere successo? Deve essere successo che ovviamente da un punto di vista estetico siamo migliorati abbiamo ridotto il nostro grasso corporeo come vi dicevo le circonferenze nei punti in cui volevamo ridurre il grasso sono migliorate quindi si sono ridotte ma ci vedremo sicuramente meglio nei vestiti ci vedremo meglio allo specchio questi sono tutti segnali importanti da un punto di vista estetico che la nostra alimentazione sta funzionando però è importante anche non essere stanchi perché se siamo ci alziamo svogliati ci alziamo stanchi probabilmente la dieta è carente di un qualcosa quindi è bene parlare con il nutrizionista per cercare di andarla a migliorare. Dovete parlare con il vostro nutrizionista quando notate un malessere generale nel portare avanti una dieta che magari vi era stata data i mesi precedenti. Noi dobbiamo sempre essere energici carichi di energie dobbiamo avere voglia di allenarci anche dopo mesi che abbiamo incominciato una dieta. Se questo non succede significa che molto probabilmente dovremo andare ad alzare le calorie perché è un segnale che la dieta magari è andata bene fino a un certo punto ma da ora in poi il nostro corpo è cambiato probabilmente avete continuato ad allenarvi è migliorato anche magari il vostro la vostra attivazione metabolica il vostro trofismo muscolare quindi è bene che il nutrizionista capisca questo e alzi un po le calorie anche perché stare a stecchetto sempre non è bello se all'inizio è utile proprio per formarvi mentalmente per intraprendere un determinato percorso a un certo punto chi si allena ha la capacità di mangiare più calorie e continuare a ottenere risultati quindi vi accorgerete che il vostro metabolismo cambierà quindi è bene alzare le calorie continuare ad allenarvi magari cambiare anche allenamento per far fronte anche ai miglioramenti che che avete avuto quindi una dieta funziona se migliorate da un punto di vista estetico riducete le circonferenze riducete il grasso corporeo non vi sentite stanchi e siete ogni giorno motivati per continuare a migliorare allora sì che la dieta sta funzionando bene questo è tutto mi raccomando spolliciate se il video vi è piaciuto mettete pure sotto qua il vostro commento se volete allenarvi con me trovate qua in descrizione come fare per me sarà un piacere accompagnarvi e farmi migliorare ulteriormente alla prossima e dateci dentro ciao ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto conti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti